ma qua cosa mi ha lasciato un ciuffesto? e ora si stiamo, ora si stiamo no bro no bro guarda guarda, siamo fratelli bro ma che cazzo è sta roba? ma sembra che sono malato, sembro malato io non so fare niente, no l'ho detto pure prima no ma dai e che cazzo? ma siamo a zero non è meglio così che era l'alzano oggi dibattito sulle lesbiche 15 anni represse con i capelli tinti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti